Un cancro dal quale il quartiere non sembra mai guarire. Così i residenti di Dragona definiscono l'annoso problema delle buche che con l'arrivo della brutta stagione sono tornate ad essere delle vere e proprie voragini. Sono anni che come comitato segnaliamo puntualmente tutte quelle che sono le buche, le voragini in ogni via del quartiere. Un paio d'anni fa facemmo anche una mappatura dove in maniera precisa e dettagliata descrivemo la situazione di ogni strada. Purtroppo la situazione ancora non è migliorata, anzi sta nuovamente peggiorando perché dopo un periodo in cui le società di sottoservizio per obbligo di legge dopo aver scavato dovevano appunto riasfaltare la strada, adesso con le nuove piogge si sta riaprendo tutto. Tra le strade più martoriate ci sono via Brunello, via Felice da Montecchio, via Bariano, via Tradate Altezza via Bareggio e via Sarnico. Un'arteria che in passato proprio a causa delle voragini è stata interdetta al passaggio dello 04 Barrato, arrecando notevoli disagi agli abitanti della zona. La strada è attraversata dai mezzi pubblici, quindi anche autobus, e con la pioggia amplifica le buche che diventano un dissesso stradale. Sono già più di tre anni, anche più, che segnalo questa situazione sia ai vigili urbani di Ostia che al municipio, all'ufficio tecnico, chiedendo di riasfaltare la strada. L'ultima pecca che ho fatto ai vigili dell'ufficio tecnico è stata, in testo alle parole, di accollarmi io all'one della spesa per asfaltare il tratto della strada, dato che nessuno si interessa. Il comitato di quartiere non molla la presa e annuncia una nuova mappatura delle buche presenti nelle 87 strade di Dragona, per sollecitare l'amministrazione ad intervenire. Con l'insediamento della nuova amministrazione non perderemo tempo, quindi prepareremo un nuovo dossier con tutte le 87 strade del nostro quartiere, dove descriveremo nuovamente in maniera dettagliata ogni criticità, nella speranza di venire ascoltati. Quello che noi speriamo o spieghiamo è che finalmente, soprattutto in alcune vie, quelle per esempio percorse dal servizio di trasporto pubblico locale o anche quelle vicine per esempio alle scuole, dove c'è passaggio comunque di persone, importante, di macchine, che si possa intervenire urgentemente. Un intervento urgente che tocca Dragona tanto quanto gli altri quartieri del decimo municipio e che senza dubbio dovrà riguardare anche la segnaletica stradale e l'illuminazione pubblica.